fa un po male fa un po male perchè è una ferita che non dico sanguini ma è ancora lì aperta non si cicatrizza anzi 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 baldi giovani una parte di me era ancora sognante sai quando quelle love story che poi alla fine ci sono cioè non c'è la mole ma poi nasce un secondo momento che cazzo sto a dire non lo so però un matrimonio forse mai è venuto quello di ericsson l'inter ma io ci ho sempre sperato ci ho sempre fatto un po il tifo ma dopo la notizia di oggi è veramente finita è veramente finita ne andiamo a discutere ne andiamo assolutamente a parlare prima però come al solito appuntamento odierno appuntamento serale con la live sul canale sul canale parallelo mamma mia parallelo al primo ragazzi tre uomini e un pallone link in descrizione e si va in live tutte le sere stasera sono io a condurre alle 23 tanti ospiti giano camilla spinelli tanta tanta roba benve zoccolini c'è di tutto e di più chiara dell'inter tutto e di più mi raccomando link in descrizione passateci così approfondiamo tutti i vari discorsi detto questo vi invito anche a scaricare a questo punto l'app onefootball che appunto vi permette di rimanere aggiornati su tutte le varie notizie io l'ho pescata da là quella quella di oggi è gratuita per cui ragazzi molto molto semplice la mettete lì nel vostro smartphone e che vedevo di gratis che cavolo vi devo di ragazzi ecco il futuro di Christian Eriksen lontano dall'inter la frattura con Antonio Conte sotto gli occhi di tutti e ha condizionato il suo utilizzo in campionato e coppa nel corso della stagione frattura ecco andiamo al succo frattura che si sdoppia e riguarda anche l'agente del giocatore Martin Schutz infatti ha presentato un'istanza di arbitrato presso il collegio di garanzia del CONI per il mancato ricevimento dei 6 milioni di commissione pattuiti con l'Inter al momento del suo passaggio dagli Spurs ai nero-azzurri ecco magari la situazione si appianerà non lo so poi i dettagli come al solito ragazzi non li conosciamo la situazione non è mai chiara non è mai cristallina non è mai limpida per cui mai mai e poi mai trarre conclusioni magari sull'accordo stilato chi ha torto chi ha ragione ma forse però perché però nella sostanza nel cognoduto come si dice dalle mie parti è una è una rottura definitiva oh poi ma è un po' poi alcune volte no e ritornando all'esempio fatto all'inizio magari alcune volte quando sei sposato la moglie chiede il divorzio proprio per dare una scossa alla relazione può essere non può essere vuoi dare una scossa alla relazione chiedi anche il divorzio ma sto facendo tanti di quegli esempi che poi sembrano banali sempre stupidi eh sì e lo sono magari certamente però possono far afferrare il concetto chiedi il divorzio per dare una scossa ma ma io credo invece che appunto il matrimonio non sia mai non ci sia mai stato l'anello non sia non sia mai stato appunto messo all'anulare per cui eh ragazzi purtroppo purtroppo finirà finirà in qualche modo sta storia si parla sempre di PSG o di Tottenham soprattutto e vedremo vedremo un po' il il da farsi io io ci speravo io io speravo che comunque no vedendoli in qualche modo 20-25 minuti contro la Sampdoria sai che ne sai magari poi forse no da qui a un anno tu ancora lo tieni poi magari possono cambiare tante cose ragazzi perché poi lo sappiamo magari da un momento all'altro da un giorno dall'oggi al domani cambia anche la guida tecnica in automatico si azzera tutto e molti giocatori eh poi potrebbero essere rivalutati ecco perciò una parte di me se pur lì nell'angolino al chiuso senza acque e viveri eh sicuramente ci sperava adesso invece è morto invece adesso sono andato ad aprire la porta e l'ho trovato proprio lì stesso e quindi anche quella parte è andata via ci ha salutato definitivamente peccato peccato francamente davvero peccato un giocatore che ragazzi di cui ogni volta non stiamo qui a discutere c'è chi c'è chi non l'ha mai apprezzato c'è chi lo apprezzava c'è chi dice c'è chi fa e c'è chi e c'è chi non fa eh io ancora una volta dico eh quanto sempre fatto in passato è inutile essere ripetitivi ma basta andare un po' a spurciare la sua carriera perché poi parlare qua e dire sempre le solute cose serve a poco andate a vedere eh guardate e poi una volta che si guarda si può analizzare magari anche discutere ma se non non se non conosciamo quello che è stato Christian Eriksen è inutile poi portare avanti nessun discorso va bene va bene ragazzi vediamo un po' bisogna lavorare bisogna lavorare in uscita anche e soprattutto per poi eh lavorare in entrata quindi prima si risolve questa situazione e a quanto abbiamo capito non nel migliore dei modi o comunque con un epilogo che vede Eriksen lontano dall'Inter e prima si può voltare pagina prima si può tornare non dico a investire nuovamente ma comunque a trovare soluzioni alternative speriamo speriamo quanto prima ecco la parola l'incipit è prima prima meglio prima che mai o meglio prima che no meglio dopo che mai meglio prima meglio prima ecco in buona sostanza meglio meglio sempre prima meglio prima va bene ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate voi commentate like se viva perché no iscrivetevi al canale un grande abbraccio da Neschio ciao Grazie a tutti.